2000 iscritti ciao a tutti ragazzi bentornati a questo nuovo video bentornati sul canale come avete capito dalla copertina e dal fatto che siamo a 2000 iscritti niente questo vuole soltanto essere un video di ringraziamento un video di ringraziamento perché ripeto già detto forse in qualche scorso video è iniziato un pochino tutto quanto per gioco il nostro rapporto ed è e si è evoluto anche in fasi estremamente difficili per tutte quanti noi quali quelle passate ma ancora non ne siamo usciti non sappiamo ancora quando ne usciremo però in un certo qual modo diciamo che siamo rimasti abbastanza solidali dite che vi ho tenuto compagnia quindi ne sono felice allo stesso modo anche voi avete dato tanto a me soprattutto un obiettivo un punto fermo da guardare quando si brancola nel buio come in quel periodo mi riferisco da marzo fino almeno a maggio giugno dove veramente era molto buio molto molto buio niente ci siamo anche divertiti per me ormai era diventato era e lo è poi rimasto un divertimento aiutare aiutare a cercare di aiutare divulgare anche non solo nozioni diciamo parascientifiche più che altro anche farvi vedere quale può essere la vita giornaliera di un negozio quindi vi ho fatto vedere gli eventuali giorni non sempre erano per forza solo nozioni di di acorofilia o di biochimica ma anche solo a farvi entrare nella nella mia vita quello che è appunto il mio lavoro perché praticamente un lavoro come questo è molto molto bello quindi per rispondere a chi mi chiede come si fa aprire un negozio di acquari e se ne vale la pena la prima cosa che ti dico è bellissimo non è brutto anzi non pensare che si fa così sì ogni tanto sei stanco ma quando un lavoro è bello e ti piace tanto è bello e basta però diciamo abbastanza ti prende tutta la vita comunque nessun ramarico anzi lo rifarei altre cento volte e lo rifarei insieme a voi perché davvero quando ho un qualcosa da far vedere non so abbiamo avuto a breve l'arrivo dei coralli ho fatto un video sulla riva dei coralli e sono molto contento perché riesco a farvi vedere quello che piace a me e quello che piace anche magari anche a voi sicuramente alcune volte ci troviamo a parlare appunto il martedì sera con le live tutti i martedì sera alle ore 20 ve lo ricordo chi di voi non lo sa ancora e quindi niente a mio giudizio si è creata veramente una bella community e io niente l'unica cosa che volevo fare era ringraziarvi per averci seguito così in tanti soprattutto essere iscritti al canale e continuare a seguirci perché appunto vedo che il discorso sta andando avanti stiamo crescendo sempre di più siamo ormai a quota quasi 170 video molti di questi sono quasi la maggior parte sono dei tutorial delle live eccetera eccetera di conseguenza continueremo così ci sono delle enormi anzi abnormi novità mi avete fatto anche crescere un pochino diciamo a livello interiore in un certo qual modo e capire a volte anche che cosa è più giusto per voi che cosa per voi intendo comunità community di youtube ma anche community acquariofila mi avete fatto capire davvero tante cose soprattutto ciò di cui avreste più bisogno di conseguenza da questo lato ci saranno veramente delle enormi novità sportello tanto spoilerò perché sennò mi dite che copio i termini avete ragione spoilerò il fatto che niente abbiamo iniziato con una serie di un movimento diciamo movimento orrendo di oggi un modo di fare in acquariologia tramite un aiuto che riusciremo a darvi ovviamente tramite il nostro lavoro uscirà anche qui a breve un video in cui vi elencherò esattamente che cosa voglio spiegarvi adesso non continuo perché inquinerei questa tipologia di video qui quindi niente ragazzi io quello che avevo da dirvi è questo continuate così anche chi di voi magari ha degli amici o qualcuno che è appassionato di un pochino di biochimica o comunque di scienza acquatica chiamiamola così cogniamolo noi il termine condividete il video appunto con chi volete sono state ancora iscritti al canale iscrivetevi cliccate sulla campanella perché vi verranno tutte le notifiche di ogni nuovo video iscritto quest'oggi non vi auguro un buon acquario a tutti ma vi dico soltanto veramente grazie di cuore ciao